Se vi dico 2010, vi dico Martin Scorsese, vi do un altro indizio, vi dico Leonardo Di Caprio, agente federale, la scena clou di Shutter Island, la scena dove tutto si capisce, se si riguarda per la decima volta ovviamente, è quando lui torna in questo manicomio e c'è questa signora che la pazza e li fa così, ed è esattamente la stessa immagine che troviamo in questo quadro. Io perlomeno ho riconosciuto subito forse l'ispirazione, mi piace immaginare che Scorsese abbia visto questo quadro e ha detto questa è veramente la pazzia, no?